E' clima olimpico quello che si respira nella piscina della Lutheran University di Thousand Oaks. Siamo in California dove il Settebello in questi giorni ha disputato un torneo a quattro, sfidando i padroni di casa agli Stati Uniti che hanno già in tasca come gli azzurri il biglietto di ingresso per Londra. Al quattro nazioni, anche Montenegro e Germania, che si giocheranno la qualificazione al torneo olimpico del prossimo mese. Noi ne abbiamo approfittato per stare insieme, per fare un'esperienza tecnica, facendo un torneo di alta qualità qui in California, ma anche per un'esperienza per far gruppo. La tappa negli Stati Uniti ha rappresentato l'ultimo appuntamento della fase invernale per il Settebello, ma è servita soprattutto per stabilizzare le novità introdotte negli ultimi mesi dopo gli europei e prendere le misure a potenziali avversari. Il Montenegro è sempre il solito Montenegro, vice campione d'Europa, molto forte, la Germania ha la solita squadra scorbutica, gli Stati Uniti che rispetto al Mondiale di Shanghai li sto vedendo in notevole progresso, si stanno allenando insieme da ottobre dell'anno scorso praticamente, per cui fisicamente sono una squadra molto preparata e darà del fio da torse all'olimpiero. Clima agonistico per tutti mescolato un po' di voglia di vacanza, ma per quella ci sarà ancora molto da aspettare. Grazie a tutti!